Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, io sono Ray Antinubu e oggi sono qui per farvi vedere il mio armadietto Ho preso il posto due giorni fa per il regalo di mio compleanno e tra poco che non è ancora arrivato E oggi volevo farvi vedere sia le skin, sia i picconi e lo sta Perché un mio amico era curioso a scuola Iniziamo da Deadpool, che fa schifo per me, non so se a voi mi piace o meno per niente Poi c'è Catalizzatore, bello, Camelera Eterno, carina, ma anche se non l'ho mai usata Camelera Ultima, ma è usato tanto anche, Fade usato all'inizio del season Sì sì Fusione Lo scienziato, che fa schifo Mida, bellissimo Sorana Che, è una più, fa schifo Crucializzatore, terzatura, Maya Maya, facciamo dirlo Cioè, Maya l'ho fatta a caso Non è un effetto malamente, potrebbe essere bellissimo Groot, vabbè, lo devo ancora usare Jennifer Walters, pazzesca Jennifer Walters, pazzesca Thor, lasciamo stare che ho schifo Questa skin ho fatto per avere le cacciatrici e zombie che ci sono ancora nel shop Brutus Queste Ah, questa Ah, Jules, bellissima Non l'ho mai usato Kuno, Kuno, me l'ha regalato Me l'ha regalato Alessio388boys Iscrivetevi anche al suo canale LordX Mioscolo Mitroglicenina Mamma mia Oceania, bella Dai, cadena Tutti questi stili che ha Pinnocotecnica Scintilla Suprema Siona Sky È bella Sky Dai Questo stile bello è molto bello rispetto a quello viola per me Vabbè, skin di Natale Viaggietto Eterno Viaggietto è la mia prima skin Sì, ci sta Yonder Caliente questo Beh, che schifo Dynamo me l'hanno regalata Ovviamente L'ho vinta nel torneo Ovviamente è il torneo più esito al mondo Cioè, 10 punti e basta Infatti 50 Di liberatice C'è l'ho Calciatrice zombie Non so perché non ci danno neanche le calciatrici romali E' come se fosse lo stile Reconexpert Lei Lei Che bellissimo Anzio Nero Come si chiama? Vabbè Guerrero Lanoso Poi c'è Iris C'è Journey Extreme Che non so Si chiama così Ma l'ho chiamata Abbo Non mi ricordo L'ho usata abbastanza Punto di rottura Sì sì Questo si che si chiama pacchetto Madonna Mille V-Buck C'è Bellissimo questo pacchetto Rimedio Tossina La Benji Fish Sirena Brumasurf Con tutti i suoi tuoi stili Anche Sirena Con tutti i suoi tuoi stili Sì Vabbè Lei me l'hanno regalata Ovviamente Questo è il passo Schifo Cristallo Ovviamente ce l'ho Guerrero del mondo Beh l'ho preso perché Alessio 388 Voice ce l'aveva gratis Non so perché Lei pechi E l'ha dato gratis Questo vabbè Lo scioppato a caso Il giorno dopo Uscita Aura C'è scatenata E poi Metturino Adesso i miei piccoli Questo 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 Non sono tanto Sono tutti Questi piccoli Però I miei preferiti Ovviamente Sono Rompigliaccio Ho scioppato ieri Pilota E bocchetta stella Regalata E anche Pilota regalata Sempre da Alessio38boys 388boys Ricordatevi Iscrivetevi Al suo canale E anche a mio Scrivetevi I commenti Se vi è piaciuto Questo video Anche se Non è che me ne freghi Tanto Se dite di no Si però Se volete Fatelo Ci vediamo A un prossimo video Bella Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti